Weee verdastri, come va? E un benvenuto ai nuovi wannabe verdastro. Grazie al video di Rick dell'altro giorno c'è stato un affollamento di iscritti e il canale ha superato di un bel po' le mille utenze. Valore che continuerò a tenere nascosto almeno fino a che non si arriverà ai 10.000. Sì, aspetta e spera. Dritto a pulco. C'era veramente bisogno del video di Rick. Volevo farne anche io uno del genere ma visto che Baffonio ha già provveduto credo non ne serviranno altri. Per le matricole del canale ricordo che sono dotato di pagina Facebook omonima, Instagram ma soprattutto del canale Telegram. E i link potete trovarli nelle descrizioni di tutti i miei video. Fatti convenevoli vi informo che a breve ripartiranno le rubriche del canale, compresa Do You Know Bug Pokemon, che credo sia quella più attesa in effetti. Anche le intro recensioni stanno scalpitando e non solo insetti. Torneranno anche le grosse verità di Pulc, che non le manderà certo a dire, ma le dirà a modo suo. Per festeggiare i 1.000 iscritti ho due idee. Una è un video corale e l'altra una live sul canale. Ma tranquilli, la realizzazione della prima non implica la distruzione dell'altra. Sappiate che oltre ai nuovi video sto ponderando per le magliette e un'altra sorpresa che spero vi possa piacere. C'è tanta carne da mettere sul fuoco e io sarò il grigliatore della situazione. Dunque, a voi non resta che essere sempre più verdi. Ciao!